2021 vince al capo dei greci alle 2.30 Anzi, guarda, negli altri anni è successo da pure bene La numero, la numero Vuole sapere la vostra opinione 40 Voglio vedere che parlavate tanto se eravate veramente attenti 40 24 Che domani diventate milionari Vince la numero 78 Alice Russo Ragazza talento 2021 Brava Alice E la cosa emozionante è che c'è il consenso delle loro compagnie Questa è una cosa bellissima E la cosa emozionante è che c'è il consenso delle loro compagnie E la cosa emozionante è che c'è il consenso delle loro compagnie Pablo suggerisce di fare un corso su come mettere le facce E la cosa emozionante è che c'è il consenso delle loro compagnie E la cosa emozionante è che c'è il consenso delle loro compagnie Grazie.